Sì, come fai, ho detto, quando mettete sempre stesse cose nel possesso di un re? Per il grano, che semina massata, è una brena vecchia, perde la semente che ci mette. Massato sarebbe? Dove avevi mettuto il grano, no, viene chiamata massata perché è stato mettuto il grano. Se ci torna a mettere il grano, lo stesso per l'anno dopo, insomma, ci pierda la semente, non viene bene. Non viene buono quando... Non viene buono. E voi ai tempi cambiavate, come la... Eh sì, facevamo riposare il terreno per un anno, diciamo. Ogni due anni si metteva lo stesso posto. Mi dicevate che la famiglia vostra un anno faceva la... Un anno non più essere terreno, insomma, in casa era un ettaro a 50, sotto era un ettaro. Un anno una parte, un anno un altro. Così può cambiare il terreno più buono? Perché non frutta se non... Se si mette la stessa cosa, sembra lo stesso posto, non frutta. Ecco, va cambiato il terreno. Ok, ok, grazie, grazie. 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 Grazie.